Signore, signori di Alan Seltzer e l'immenso Alan Soul vi dedicano un'altra canzioncina dalla quarantina. Quarantena. Alan dedica questo pezzo a tutte le donne del mondo. Si chiama Mayer, più o meno lo conoscete tutti. Signore, signori, la voce, la luce, il signor mister Alan Soul. 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 Oh, I need him, my friend I got a hold of the riches, baby One big man can't claim Well, I guess you would say What can make me feel this way, my girl Talking about my girl Oh, I got sunshine on a cloudy day With my girl, if I can't know what to make My girl, my girl, my girl, my, my girl Talking about my girl Oh, my girl, my girl I'm talking about my girl My girl, my girl Grazie, grazie Sento gli applausi da molto lontano Ma sono molto graditi Gli Alan Seltzer vi hanno regalato un'altra perla Si chiama My Girl Un pezzo, un classico pezzo Vi auguro, che vi auguro Vi auguro uscire al più presto Da questa quarantena Io veramente, vi dico sinceramente Mi sono rotto i coglioni Vi ringrazio Un bacione a tutti quanti Ciao cari 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 Grazie a tutti